Marizio Fugatti, è ufficiale, al primo ottobre l'IVA sale al 22%, il governo vi ha cercato in tutti i modi di far sì che questo non accadesse, ma alla fine non ha potuto far altro? Al momento l'aumento dell'IVA al primo ottobre è ufficiale ed è confermato. Noi ospichiamo che mancando ancora 25 giorni ci sia la possibilità di non farlo scattare in questo momento perché non far aumentare l'IVA nel 2013 costa circa un miliardo e crediamo che un miliardo di euro lo si possa reperire andando a tagliare qualche spesa non necessaria. Quindi ad oggi è confermato però il nostro auspicio e il nostro impegno che faremo anche nei prossimi provvedimenti fiscali è quello di far sì che ciò non avvenga. L'Ocse intanto bacchetta l'Italia mettendola come paese peggiore nella classifica tra quelli europei per quanto riguarda il prodotto interno lordo. Purtroppo questo è il dato dell'altro giorno, è un dato sicuramente negativo, ma ciò che ci preoccupa è anche l'eccessiva aspettativa positiva che c'è su questa ipotetica crescita. Cioè qua sono ormai dieci anni che il paese non cresce e perché un trimestre pare, ci sono le previsioni sull'ultimo trimestre del 2013 di un'inversione di tendenza, qui sono tutti qua che festeggiano. Speriamoci sia l'inversione di tendenza ma ricordiamoci che la cosa non cambia, ci vuole ben altro per arrivare a livelli di crescita che possono far ripartire l'occupazione, che possono far ripartire i consumi. Quindi questa eccessiva positività da parte del governo nel dire arriverà la crescita, crediamo che accanto a questa crescita, che forse arriverà ma comunque sarà molto bassa, devono esserci anche delle riforme importanti sul taglio delle tasse, sulla riforma fiscale perché altrimenti anche se ci fosse questa crescita è talmente bassa che non darà i risultati che chi parla di questa crescita si aspetta. Grazie 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 Grazie